L'odissea degli 81 passeggeri del volo Alitalia-Roma-Palermo atterra su tanti problemi aperti dell'aeroporto di Comiso e lo trascina in un caso sfortunato del quale i progetti di ripresa dello scallo non avevano proprio bisogno. Il volo di venerdì sera, dirottato in un primo momento per il maltempo dal Falcone Borsellino al Bellini di Catani e quindi al Piola Torre, ha dovuto fare i conti con il contemporaneo guasso delle due autobotti in dotazione per il rifornimento di carburante. I passeggeri sono stati costretti a rimanere a Comiso in albergo, ospiti di Soaco che pur avendo bilanci in rosso si è dovuta accollare le spese e potrebbe trovarsi dinanzi a richieste di risarcimento danni da parte degli 81 viaggiatori. Una beffa se si considera che Soaco a sua volta è vittima della mancata erogazione del servizio di erogazione carburanti. In proposito, il presidente di Soaco, Silvio Meli, annuncia azioni legali rispetto ai responsabili del grave inconveniente. Una delle autobotti era guassa per un cortocircuito, l'altra impossibilità da muoversi per l'azzeramento della batteria elettrica causata dal freddo di quelle ore. Una figuraccia per il Piola Torre sulla quale il comitato Vussia, solitamente critico rispetto alla gestione di questi anni, interviene per esprimere solidarietà a Meli. E di tutta evidenzia la brutta figura e il danno grave alla società aeroportuale. Esporre il presidente alla necessità di un mea culpa pubblico mascherato da ira verso l'appaltatore è un brutto colpo. Secondo il Vussia, Soaco evidentemente non poteva sapere che alle 11 di sera di una fredda notte di gennaio l'aeroporto sarebbe stato chiamato agli straordinari. D'altronde immaginiamo che ci siano difficoltà a eseguire i controlli di efficienza dei mezzi in un aeroporto che viene gestito con spese quotidiane di circa 17.000 euro, delle quali due terzi sono assorbite da servizi ordinari di efficienza ed emergenza. Quindi il Comitato dei passeggeri torna a chiedere la revoca della concessione da parte del Comune alla Soaco.